Ok, allora, mi spiace per l'altra volta che è saltata, però io avevo detto che avrei dato un'altra spiegazione su Marcel Berabiliezer, ma la salto, la salto perché vorrei provare ad andare avanti, quindi non mi soffermo di nuovo su Marcel Berabiliezer. Allora, subito dopo il Marcel Berabiliezer abbiamo il brano, uno dei brani forse più famosi della Gadà, forse più famoso in assoluto, che è il brano dei quattro figli. Però prima del brano per i quattro figli abbiamo una specie di introduzione a questo brano, subito dopo il Marcel Berabiliezer, che è questa. Baruch HaMakon Baruch Hu, Baruch Shantan Torale Amor Israel Baruch Hu, e poi c'è scritto che Nega Darbaba l'indibera Torà, e poi apporta quattro figli la Torà ha parlato. Però prima c'è questo Baruch HaMakon Baruch Hu. Cosa vuol dire Baruch HaMakon Baruch Hu? In che modo questa è un'introduzione al brano dei quattro figli e in che modo si lega al brano precedente, cioè al Maraseber Rabbi Eliezer, vi ricordo che Maraseber Rabbi Eliezer si concludeva con quello che dice Rabbi Eliezer Benazariah, che sono arrivato fino ai 70 anni, e non avevo avuto il merito di trovare la fonte perché si diceva Yetziat Benazariah Benazariah. Se vi ricordate abbiamo interpretato quello che dice Rabbi Eliezer Benazariah, che teoricamente non si riferisce a Pesach, ma si riferisce al dovere di ricordare l'uscita dall'Egitto tutti i giorni, e quindi quello che aggiunge, che la si ricorda anche di sera, l'abbiamo interpretato in maniera anche simbolica, nel senso che le lotte a cui ci si riferisce non sono semplicemente le sere, ma sono quello che rappresenta la sera nella tradizione ebraica, che è l'esilio, che è il momento difficile, il momento di persecuzione, il momento di allontanamento, il momento in cui Dio si sente lontano, eccetera. Vediamo se questo brano poi si lega a questo. Dopodiché dovremmo capire in che modo si lega invece la questione dei quattro figli. Ripeto cosa dice questo brano, Baruch Ammakom Baruch Hu, benedetto Ammakom, Makom è uno dei modi di indicare Dio, è uno dei nomi di Dio. Baruch Hu, benedetto sia, Baruch Shantan Torah, le Ammo Israele Baruch Hu, Benedetto, colui che ha dato la Torah al popolo di Israele, sia benedetto. Allora, tanto per cominciare, una piccola nota che è questa. Questo brano in realtà è una sintesi di una cosa che si dovrebbe dire ogni giorno, ogni mattina. Nelle Birkotashachar, nelle benedizioni del mattino, noi diciamo la Birkata Torah. E la Birkata Torah in realtà, in questo brano, è una sintesi della Birkata Torah. La Birkata Torah ve la ricorda, Ha scelto fra tutti i popoli e ci ha dato la Torah. E' quello che diciamo qui, Baruch Shantan Torah, le Ammo Israele, benedetto che ha dato la Torah al popolo di Israele. E poi vi dirò anche un legame con un'altra parte della Birkata Torah che diciamo la mattina. Bene, la cosa particolare è che per indicare Dio, qui si usa questo termine Ammakom. Ora, questo termine non è il più usato, come ben sapete. Si usa in alcuni casi, in particolare tra l'altro si usa quando si fanno le condoglianze. Quando si fanno le condoglianze a una persona si dice Ammakom yenachemethem. Ammakom, il makom, che è Dio, vi consoli. Ora, io volevo portarvi un'interpretazione su questo brano di Rav Solovechik. Rav Solovechik, per spiegare questo brano, lo lega a un passo del Talmud, a un passo del Talmud di Masechet Chagiga. Il passo del Talmud paragona due profezie. La profezia del profeta Yeshayah e la profezia del profeta Yehezkel. Perché le paragona? Le paragona perché sia Yeshayah che Yehezkel vedono la stessa cosa e descrivono la stessa cosa. Che cosa vedono e che cosa descrivono? Vedono e descrivono Dio, o meglio, il carro divino. Vedono la Merkavah, cioè il carro divino. Ora, la profezia del carro divino è molto famosa, però in realtà noi la ricordiamo come profezia di Yehezkel, non che non ricordiamo la profezia di Yeshayah. Perché non ricordiamo quella di Yeshayah? Il Talmud, nel Talmud, dice Ravah, Ravah dice che in realtà Yehezkel e Yeshayah vedono la stessa cosa, però la descrivono in maniera diversa. E perché la descrivono in maniera diversa? La descrivono in maniera diversa perché Yehezkel sembra l'abitante di un villaggio che ha visto il re, mentre Yeshayah è l'abitante di una città che ha visto il re. Qual è la differenza tra l'abitante di un villaggio e l'abitante di una città? L'abitante della città è abituato a vedere il re, mentre l'abitante del villaggio non lo vede mai e una volta che l'ha visto è per lui assolutamente un'esperienza eccezionale. Ora, sia Yeshayah che Yehezkel vedono il caro divino, cioè vedono il re, vedono Dio, però lo descrivono in maniera diversa. Yehezkel lo descrive in tutti i particolari, descrive quella visione in maniera con tutti i particolari, mentre Yeshayah la descrive in maniera molto sintetica. Perché? Perché Yeshayah è l'abitante della città e Yehezkel è l'abitante del villaggio. Rav Solovechik dice che questo passo della Gemara non va interpretato male. Noi normalmente come lo interpretiamo? Normalmente è interpretato in questo modo. Yehezkel è un profeta minore rispetto a Yeshayah. Yeshayah è il grande profeta che è abituato a vedere Dio. Yehezkel è un profeta più piccolo che non è abituato a vedere Dio. Questo è il modo in cui in genere viene interpretato questo passo della Gemara. Rav Solovechik dice che non è così che viene interpretato. Non è una classifica dei profeti. Yehezkel e Yeshayah sono tutti e due grandi profeti. Il problema non è la classifica, ma il problema è il mondo in cui vive Yehezkel e il mondo in cui vive Yeshayah. Quando è che vive Yeshayah? Yeshayah vive prima della distruzione del Tempio e quindi ha l'esperienza del Betamikrash, ha l'esperienza del Tempio, ha l'esperienza del Santuario. Vede il Santuario e vive il Santuario. E in questo senso è l'abitante della città che vede il Re. Perché? Perché vive nella sensazione continua della presenza del Re, cioè nella sensazione continua della presenza di Dio. Yeshayah e Yeshayah invece, quando è che vive? Vive in Babilonia. Yeshayah è il profeta dell'esilio. Yeshayah vive dopo la distruzione del Tempio. Yeshayah non vede il Tempio, non vive il Tempio, ma vive dopo la distruzione del Tempio. Quali sono le due esperienze di Yeshayah e Yeshayah? Le due esperienze sono, una parte, l'esperienza della presenza di Dio in mezzo al popolo, l'esperienza di quello che si chiama E'arat Panim, cioè il volto illuminato di Dio. L'esperienza di Yeshayah invece è quella del Astarat Panim, del nascondimento del volto, del volto nascosto di Dio. E Yeshayah esprimono queste due esperienze. In che modo le esprimono? In un modo, quando descrivono l'Amercadà, uno la descrive come fatto eccezionale, perché in realtà non gli capita di sentire la presenza di Dio, l'altro la descrive come fatto normale, ma la descrivono in maniera diversa anche in due versi molto famosi di Yeshayah, che sono molto famosi perché sono entrati nella liturgia e sono entrati in particolare nella Kedushah che noi diciamo nell'Amida. Yeshayah dice un verso che è Dio è Kadosh, 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 Santo, 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 tutta la terra è piena del suo onore, della sua dignità. E cosa dice invece Yeshayah? Yeshayah invece dice Baruch, che vod Hashem mimme komo, benedetto l'onore di Dio dal suo posto. Che differenza c'è fra quello che dice Yeshayah e quello che dice Yeshayah? Yeshayah vede Dio presente dappertutto, vede la presenza di Dio dappertutto. Yeshayah invece vede Dio che è nel suo posto, lontano. Vede Dio che è lontano, vede Dio che si è allontanato. Dopo la distruzione Dio in qualche modo si è allontanato, vive il periodo dell'esterpanim, vive il periodo del nascondimento del volto, di Dio che è lontano. E quindi dice mimme komo, dal suo posto. Allora, sulla base di quello che dice Yeshayah, tutte e due queste frasi poi entrano nella Kedushah che noi diciamo, quello che dice Yeshayah, noi proviamo a capire che cosa vuol dire Makom, cosa vuol dire Baruch HaMakom. Baruch HaMakom è preso dalla Nevoa di Yeshayah, è preso dalla profezia di Yeshayah. E cosa vuol dire Makom? In realtà quello che sta descrivendo l'agradà è un momento di astaratpanim, è un momento di Dio che sta bim komo, che sta al suo posto, che in qualche modo è lontano. Se vi ricordate, l'ultima volta che abbiamo fatto le azioni, io ho posto la domanda, la domanda che pone il Maharal, e la domanda che, questa è stata l'interpretazione che abbiamo dato del Maasebe Rabi Eliezer, la domanda era come ricordare la cosa eccezionale dell'uscita dall'Egitto, l'uscita verso la libertà, eccetera, eccetera, nel momento in cui si ritorna ad essere schiavi, nel momento in cui c'è la persecuzione, nel momento in cui si è sotto dominio straniero. Come si fa a ricordare questo? Insomma, come si fa a ricordare la presenza di Dio in questo momento? Cosa risponde in realtà la Gadà? La Gadà subito dopo dice Baruch HaMakom, benedetto HaMakom. Dio è vero, Dio è lontano, Dio è bim komo. Questa espressione, MaKom, vi ricordo, è usata da Yecheskel, è usata anche nella Torah, è usata nella Torah a proposito di Yaakov. Yaakov, di Yaakov c'è scritto Vaif Gabba Makom, che incontrò il Makom, incontrò il posto, che vuol dire un luogo, ma che vuol dire anche Dio. Ora, Yaakov è il patriarca che vive l'esperienza dell'allontanamento, vive l'esperienza del Galut, il primo Galut, il primo esilio del popolo ebraico, in realtà è Yaakov Avino. Ma vive soprattutto una serie di momenti terribili nella sua vita. vive il momento terribile in cui il fratello lo vuole uccidere, si rifugia da Lavan e anche Lavan lo vuole uccidere. Gli muore la moglie amata, che è Rahelin, per strada, la deve seppellire per strada. Vive l'esperienza allucinante di una figlia che viene violentata e rapita e vivrà poi l'esperienza della vendita di Yosef, che proprio per lui non è vendita, ma è morte di Yosef, la scomparsa di Yosef. Yaakov vive momenti terribili. Yaakov, secondo Iqamim, stabilisce la tefilà di Arvit, tefilà della sera. Perché proprio la tefilà della sera? Perché Yaakov vive le sere, vive le notti. Yaakov vive la notte, nella sua vita vivrà la notte. Questo è Macom. Macom è il momento in cui Dio sta bim komo, sta nel suo posto. Però Dio che sta nel suo posto è Baruch Hu, ce l'ha detto. Dio che sta nel suo posto è anche Dio che ha dato la Torah al popolo ebraico. Quindi qual è l'affermazione della Gadà, l'affermazione forte della Gadà? Attenzione, è vero, stiamo parlando di sere ed è quello di cui si parlava nel brano precedente. Si parlava del Yeziat Mitzrayim di sera, ricordai Yeziat Mitzrayim di sera, stiamo parlando del Galut, stiamo parlando del momento di allontanamento, eccetera, eccetera. Però ricordati che è sempre Dio che ha dato la Torah e quindi Dio è sempre presente. È sempre presente ed è sempre quello che dà la Torah. Quindi questo direi che è il rapporto col brano precedente, ma è il rapporto con il problema che abbiamo posto, che è quello di come ricordare l'uscita dall'Egitto nel momento in cui non si è più liberi, ma si è comunque sotto dominio straniero o addirittura sotto persecuzione. Ricordiamoci che la Gadà viene composta in un momento del genere. La Gadà è composta nei tempi della Mishnah e anche in tempi successivi alla Mishnah, in tempi in cui le persecuzioni ci sono, in cui l'allontanamento c'è, in cui la Starat Panim c'è. Quello che ti viene detto è attenzione, non stiamo facendo finta di non vedere tutto questo e passiamo una bella serata senza, dimenticandoci tutto questo. Tutto questo l'abbiamo ben presente, però siamo sicuri che anche quando Dio è Bim Komò, Dio è presente. Dio comunque è presente anche quando è Bim Komò. Secondo elemento che c'entra col brano successivo, cosa c'entra con Keneghe Dar Babanim? Beh, col brano successivo c'entra in questo modo. Tanto per cominciare il che cos'è la Gadà di Pesach. La Gadà di Pesach è qualcosa che noi raccontiamo ai nostri figli. Bene, è questa idea che in realtà la tradizione ebraica è qualcosa che si racconta ai figli, qualcosa che si passa ai figli. È un'idea fondamentale della tradizione ebraica. Gli ho detto prima che questo brano è in realtà una sintesi dei della Birkata Torà che noi diciamo ogni mattina. Adesso vi dico un altro pezzo della Birkata Torà. L'altro pezzo della Birkata Torà è e saremo noi, i nostri figli, i figli dei nostri figli, la nostra discendenza, tutti studioli di Torà. Baruch a me la metto orale a morisraeli. Benedetto chi insegna la Torà ai figli, al suo popolo israeli. Questa è l'altra parte della Birkata Torà che noi diciamo che diciamo la mattina. In questa parte della Birkata Torà c'è la trasmissione, c'è la messorà, c'è la massoret, c'è il trasmettere la Torà ai figli. Quindi in realtà quello che diciamo è da una parte Dio è presente, Dio è presente e Dio ci ha dato la Torà, ma Dio ci ha dato la Torà per trasmetterla e a questo punto diciamo a chi la trasmettiamo e diciamo che la trasmettiamo ai nostri figli ed è questo il legame con la parte successiva, cioè che neghe d'arba abanim di Brattola. Ok? Bene, arriviamo a questo brano. Questo brano è molto famoso, in genere quando si studia la Galà si commenta quasi sempre questo brano. Proviamo a dire qualcosa, proviamo a dire qualcosa, non ci soffermeremo solo su questo brano, quindi però oggi ci soffermeremo. Allora, tanto per cominciare, cosa vuol dire che neghe d'arba abanim di Brattola? Cosa vuol dire che la Torà parla riferendosi a quattro figli? In realtà questa storia dei quattro figli viene dedotta direttamente dalla Torà. Noi abbiamo quattro punti nella Torà in cui si parla di figli. Questi quattro punti sono tre nel libro di Shemot e uno nel libro di Devarim. Vi dico questi quattro punti. Nel libro di Shemot a capitolo 12 di Shemot c'è scritto e avverrà quando vi diranno i vostri figli cos'è questo lavoro per voi. Questo è scritto nella Torà parasha di Bok. Nel secondo brano di Shemot capitolo 13 c'è scritto veigatale vincab bayom avu bavuse asashem di beset min israim e dirai al tuo figlio in quel giorno per questo motivo Dio mi ha fatto uscire dall'Egitto. Attenzione nel primo brano c'è una cosa che dicono i figli qui invece è una cosa che viene detta ai figli è una cosa che viene raccontata ai figli veigatale vincab che cosa non c'è la domanda in questo brano non c'è la domanda che cosa farà l'aggada l'aggada dirà che in questo brano si parla del figlio che non sa fare domanda perché la domanda non c'è c'è la risposta c'è una risposta alla domanda senza che ci sia la domanda e quindi a chi si riferisce si riferisce a un figlio che non fa domanda nel terzo brano sempre in Shemot c'è scritto e avverrà quando tuo figlio domani ti chiederà dicendo Masot che cos'è questo questa è l'altra domanda ed è la domanda del Tam vi ricordate l'aggada è la domanda del Tam l'aggada è il figlio semplice Masot l'ultimo brano della Torah in cui ci sono i quattro figli sono i figli ci sono le domande dei figli è questa quando tuo figlio domani ti chiederà quali sono le leggi statuti ordinamenti che il Signore nostro Dio ha comandato a voi cos'è questa è quella che nell'aggada viene attribuita al Chacham è la domanda che viene attribuita al Chacham la prima domanda che abbiamo invece quella che abbiamo nella parasha di Boh è mavo da Zotlachem qual è cos'è questo lavoro per voi ed è la domanda del Chacham cioè che cosa fa l'aggada l'aggada prende quattro brani di Torah in cui si parla di figli e a ognuno di questi brani tu ognuno di questi brani lo attribuisce a una tipologia di figlio il primo brano mavo da Zotlachem lo attribuisce al Rasha il secondo brano in cui non c'è la domanda ma c'è la risposta alla domanda lo attribuisce al Ceno Yodea Rishol al bambino che non sa domandare il terzo brano lo attribuisce al Tam Mazot e il quarto brano l'ultimo quello che si trova in un altro libro della Torah che troviamo in Devarim lo attribuisce è la domanda che significa dire che ci sono quattro può significare varie cose innanzitutto significa che i figli sono diversi per prima cosa quello che ci dice l'aggadà ma quello che ci dice anche la Torah ripetendo la domanda quattro volte per il riferimento ai figli quattro volte è che i figli sono diversi e quindi che non tutti i figli possono essere trattati allo stesso modo e non a tutti i figli si possono dare le stesse risposte è un insegnamento fondamentale è quello che si chiama educazione individualizzata educazione particolare capire che chi ho davanti non è sempre la stessa persona un'altra interpretazione possibile è che i quattro figli siano un figlio in realtà un figlio in momenti diversi della sua vita può essere un figlio in momenti diversi della sua vita c'è un momento in cui il figlio non è in grado di fare domande quando il figlio è troppo piccolo non è in grado di fare domande non è capace di fare domande c'è poi un momento in cui fa domande ma fa domande molto semplici c'è un momento in cui fa domande chachamot vuole studiare non fa semplicemente delle domande ma pone domande che sono domande di studio e poi c'è un momento in cui i figli si ribellano in genere questo momento coincide con l'adolescenza è il momento in cui un figlio si ribella e in cui viene fuori il ben rasha il ben che pone domande provocatorie questa è un'altra possibilità di risposta i quattro figli sono quattro momenti di evoluzione in realtà l'idea è che non si smette mai di evolversi che le persone non sono sempre uguali che il figlio non è sempre uguale questo è un è un altro insegnamento fondamentale da un punto di vista didattico educativo eccetera eccetera noi sbagliamo moltissimo se pensiamo di educare sempre allo stesso modo se noi pensiamo di trattare un bambino di otto anni allo stesso modo di un ragazzo di dodici sbagliamo in maniera profonda rischiamo di sbagliare in maniera profonda come noi adesso non possiamo trattare così uno di quindici uno di sedici e i razzi evolvono e i razzi cambiano e noi abbiamo un po' la tendenza a trattarli sempre allo stesso modo questa tendenza è una tendenza sbagliata noi dobbiamo in qualche modo seguire l'evoluzione l'altro elemento questo brano è un brano in realtà in cui si insegna attenzione questo è un brano di insegnamento è un brano in cui il padre insegna al figlio questo elemento è fondamentale è molto evidente quando si parla del Ben Chacham quando si parla del figlio sapiente questo brano è un brano di insegnamento qual è l'idea l'idea è che l'insegnamento è un insegnamento continuo l'insegnamento non finisce mai nelle varie fasi di evoluzione del figlio io comunque devo insegnare in ogni momento io devo insegnare devo continuare l'insegnamento vi porto poi un'altra interpretazione molto famosa molto carina legata al Gematria se andate a fare i figli sembrano ognuno per conto suo ognuno è una personalità a parte e ognuno è per conto suo e in parte è così in parte è così noi dobbiamo capire le differenze d'altra parte però se facciamo vediamo il valore numerico della parola Echad la parola la parola ripetuta in questo brano è la parola Echad 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 questo Echad è ripetuto quattro volte il valore numerico di Echad è tredici se moltiplichiamo tredici per quattro viene fuori il numero cinquantadue il numero cinquantadue corrisponde alla parola ben alla parola figlio quindi i quattro figli formano un figlio in realtà nelle quattro personalità dei figli ci sono c'è un figlio che è il ben c'è un'altra di matica possibile la parola sempre cinquantadue è lo stesso valore di Eliau profeta Elia molto legato tra l'altro a Pesach il profeta Elia nell'Aftara che noi leggiamo lo Shabbat precedente Pesach Shabbat Agadol noi diciamo del profeta Elia che di Eliau che che farà tornare il cuore dei padri sui figli e il cuore dei figli su loro padri quindi Eliau rappresenta l'unione di padri e figli l'idea è che un conflitto ci sia e che il conflitto a un certo punto però verrà sanato questa è l'idea bene proviamo ad andare alle domande dei figli non chiedo che riusciremo a finire ok sto tentando di andare veloce però non ci riesco più di tanto ok vediamo le domande andiamo in ordine cominciamo dal Chacham tanto per cominciare il figlio Chacham la domanda del figlio Chacham nella Torah la troviamo nel libro di Devarim cioè la troviamo nell'ultimo libro della Torah e questo credo che sia un'indicazione su quale significa essere Chacham per essere Chacham bisogna studiare bisogna fare esperienza per avere Chochmah bisogna fare esperienza i Chachamim dicono che gli ebrei sono arrivati veramente a capire soltanto alla fine dei 40 anni nel deserto ecco per essere Chacham bisogna arrivare al libro di Devarim bisogna cioè arrivare a aver superato i 40 anni di deserto solo allora si può fare la domanda da Chacham solo allora si può veramente poter fare una domanda del genere la domanda di Chacham è una domanda importante la domanda è ma a edot a Chuchim ver Mishpatim a Sheh Tzivar a Sheh Mero Kenetka allora sono gli edot i Chuchim e Mishpatim edot Chuchim e Mishpatim rappresentano tre categorie di Mitzvot tre tipi di Mitzvot edot la parola edot viene dalla stessa radice di ed che vuol dire testimone e la parola edot indica le Mitzvot che sono testimonianza di qualcosa per esempio Shabbat è una degli edot viene a testimoniare il fatto che Dio ha creato il mondo il fatto che ci ha fatto uscire dall'Egitto e Festa Pesach stesso Shukor Shavuot sono tutti edot sono tutti Mitzvot che vengono a testimoniare qualcosa Mishpatim invece sono Mitzvot che Hamim definiscono in questo modo definiscono sono le Mitzvot che se Dio non ci avesse dato l'uomo si sarebbe dato da solo sono Mitzvot che riguardano l'andamento di una società per esempio non uccidere non rubare non fare falsa testimonianza sono Mitzvot che riguardano la costruzione di una società giusta di una società in cui non ci sia l'oppressione del forte sul debole eccetera questi sono i Mishpatim sono Mitzvot che il cui significato dovrebbe essere chiaro e che in qualche modo troviamo in ogni società anche se non esattamente come le troviamo nella Torah e sicuramente il modo in cui le troviamo nella Torah è diverso e verrebbe studiato come è diverso che cosa sono i fucchi noi abbiamo appena letto una parasha la scorsa lo scosto Shabbat che è la parasha di Parà questo Shabbat era Shabbat Parà oltre alla parasha normale della settimana abbiamo letto un'altra parasha la parasha di Parà che cosa dice la parasha di Parà parla della cosiddetta mucca rossa la mucca rossa con la cenere della mucca rossa si purificava una persona che era venuta a contatto con un morto è una Mitzvot di difficile o impossibile comprensione è l'esempio più classico di Hock è l'esempio più classico cioè di Mitzvah non comprensibile non solo perché non sappiamo che cos'è la Tumara e la Tarah cosa sono la purità e l'impurità cosa significa purificarsi eccetera ma perché è una Mitzvah obiettivamente strana obiettivamente particolare tra l'altro contraddittoria perché da una parte purifica gli impuri dall'altra rende impuri puri perché le persone che si occupano della Parà diventano impuri questi sono i Hukim ora i Hukim occupano una parte importante della Tarah i Hukim sono anche Mitzvot molto note anche la Kashut rientra nella categoria dei Hukim e cosa sono i Hukim i Hukim sono Mitzvot di cui non conosciamo il significato e qui ci sono due interpretazioni della tradizione ebraica c'è chi dice lo dice per esempio Raf Sarviagaon che non conosciamo il significato dei Hukim perché non hanno il significato attenzione perché il significato non c'è e i Hukim sono dati da Dio secondo Raf Sarviagaon per mettere alla prova la nostra ubbidienza il fatto che noi accettiamo o il mal cucciomai accettiamo il gioco del regno di Dio quindi accettiamo Mitzvot di cui non si sa il significato semplicemente perché Dio l'ha cominciato questa è l'opinione di Raf Sarviagaon opinione molto diversa quella di Rambam Rambam invece dice che i Hukim hanno un significato ma per noi ma noi non ci arriviamo noi non riusciamo ad arrivare al significato oppure per noi è molto difficile arrivare al significato Rambam non dice affatto che non dobbiamo cercare il significato di Hukim secondo Rambam possiamo anche arrivare al significato in qualche modo possiamo arrivare al significato sono un episodio in cui è molto difficile capire il significato i Hukim rappresentano i limiti dell'intelligenza della capacità umana di capire il Hukim insomma ci metterebbero davanti al fatto che noi non capiamo che noi sappiamo di non sapere e quindi la domanda la domanda del Hukim è su tutto sostanzialmente la domanda del Hukim è sulle mitzvot e la domanda del Hukim è su tipi diversi di mitzvot ora la risposta alla domanda del Hukim è una lezione di Alaha attenzione non è semplicemente una lezione di Torah e una lezione di Alaha la risposta è che non dopo il Corban Pesach dopo il sacrificio di Pesach non si può mangiare altro non si può mangiare una specie di dessert questo è Maftirim Ma'ara Pesach però in realtà non vuol dire questo noi abbiamo un'altra versione dell'Agada ed è la versione che riporta il Gaon Divino in cui non c'è scritto che il Padre risponde Ma'ara Pesach ma che il Padre risponde dicendo al Hukim tutte le il Hukot Pesach tutte le regole di Pesach fino ad arrivare a che cosa? alla fine del sedere alla fine del sedere in cui non si può mangiare la ficomen la cosa in più non si può prendere perché sia arrivati alla fine con il Corban Pesach in realtà quindi in realtà quello che abbiamo è una lunghissima lezione sulle Hukot Pesach e noi abbiamo degli esempi nel Talmud del fatto che il sedere veniva fatto esattamente così noi abbiamo Rabban Gamliel che passa la notte è simile alla storia di Manasseh per Rabbi Eliezer però riguarda Rabban Gamliel e anche loro passano tutta la notte su Pesach ma non a raccontare Pesach non a raccontare il racconto ma a parlare delle Allahot di Pesach e se ci pensate anche il Manasseh per Rabbi Eliezer è una cosa di Allaham in realtà alla fine del Manasseh per Rabbi Eliezer c'è un problema di Allaham quindi che cosa viene detto al Chacham in realtà sia la domanda che la risposta del Chacham vanno in una direzione vuoi capire Pesach in realtà non è il racconto che ti farà capire Pesach in realtà è studiando l'Allahach che tu capirai Pesach tu capirai Pesach studiando l'Allahach tu capirai Pesach studiando l'Elhot Pesach e se ci pensate in realtà nella Gadda di Pesach di racconto ce n'è poco in realtà se veramente la Torah la Gadda avesse voluto raccontarci Pesach avrebbe dovuto dirci di leggerci i brani di Shemot in cui si parla del Egirito dell'uscita dall'Egitto eccetera eccetera questo non c'è però nella Gadda in realtà la parte di racconto nella parte molto piccola la parte grossa è una parte sia di riflessione sia di Agada in realtà scusate sia di di Al-Aham e questo è uno degli insegnamenti lo ritroveremo anche dopo è uno degli insegnamenti del brano dei quattro figli in realtà se vuoi capire Pesach deve arrivare all'Ala soltanto arrivando all'Ala tu riesci a capire Pesach vedremo che questa è anche la risposta al figlio Rasha sostanzialmente è simile la risposta al figlio Rasha anche se non non so cosa fare non so se concludere o vabbè provo a dirvi qualcosa su Rasha qualcosa allora il figlio Rasha pone una domanda ma la domanda è perché questa domanda è considerata da Rasha perché questa domanda è considerata da malvagio e cosa vuol dire che il figlio è malvagio attenzione noi stiamo parlando di un figlio malvagio però non gli si dirige te ne vai non gli si dice lascia il server gli si risponde non solo ma la Gadà parla del figlio malvagio esattamente come parla degli altri figli che neghe alba abanim di Bratorah la Torah ha parlato in rapporto a quattro figli e i quattro figli nei quattro figli c'è anche il malvagio sapete che la parola tzibur che vuol dire collettività che vuol dire pubblico formata secondo i khachamim da tre lettere legate dalla Vav che sono Tzadikim giusti Benonim Medi Reshaim malvagio un tzibur è formato da questa da questo da queste persone da questo tipo di persone quindi il figlio malvagio da una parte pone la domanda da malvagio e dovremo capire qual è la domanda da malvagio perché questa domanda è una domanda da malvagio non è così semplice capirlo la seconda cosa a questo figlio comunque risposta la si dà risposta dura sia ben chiaro la si dà e comunque quel figlio rimane lì rimane dentro rimane dentro del satan perché è una domanda da malvagio ci sono varie risposte a questa domanda una prima risposta la troviamo in un brano del Talmud di Erucialmi nel Talmud di Erucialmi questa domanda è formulata in maniera diversa il Talmud di Erucialmi la domanda è formulata così cos'è questa fatica con cui voi ci affaticate di anno in anno quindi a questo punto la domanda è un po' più chiara e capiamo perché è la domanda del malvagio la parola chiave secondo quello che dice il Talmud di Erucialmi è la parola Avoda ora la parola Avoda in realtà il termine Avoda è un termine ricchissimo di significati la parola Avoda può indicare la schiavitù può indicare il lavoro può indicare però anche la Avoda Tashem il servizio di Dio l'osservanza delle Mitzvot la Tefillah tutto questo è Avoda è scritto un famoso brano perché Avoda dice che il mondo poggia su tre cose alla Torah l'Avoda sul servizio di vino sulla Torà che cosa fa il Ben Rashah cosa fa il Ben Rashah secondo quello che dice lo Yerushalmi trasforma l'Avoda in fatica l'Avoda è soltanto fatica che cosa sta dicendo più o meno sta dicendo che come ci affaticavamo in Egitto a servire il farone quindi ci affatichiamo qui a servire Dio abbiamo semplicemente cambiato padrone ma il padrone abbiamo sempre un padrone c'è un altro elemento che fa della domanda del Rashah la domanda del Rashah l'altro elemento è il fatto che nella Torah quando questa domanda viene presentata non ci viene detto quando tuo figlio ti domanderà ma ci viene detto quando tuo figlio ti dirà anzi quando i tuoi figli ti diranno ci sono due differenze uno non c'è domanda c'è una presa di posizione c'è un'affermazione è una domanda retorica in realtà non è una domanda ma un'affermazione due c'è un plurale che non c'è negli altri nelle altre domande che abbiamo nella Torah e beh il plurale può significare che in qualche modo ci si presenta come una specie di gruppo che ha una propria ideologia e può presentare nella Agadà la propria ideologia questo potrebbe essere il motivo per cui è considerata la domanda del Rasha c'è un altro elemento se io dico che in realtà il figlio dice e non domanda sto dicendo che non vuole una risposta in realtà questa è la contrapposizione Hacham Rasha il Hacham pone una domanda perché vuole una risposta e ci si dilunga nel dargli una risposta tanto che si passa ore a dirgli tutto la domanda del Rasha invece c'è uno che non vuole risposta in realtà pone domande ma le domande sono domande retoriche in cui non si vuole una risposta ora chi è il Rasha beh su questo si possono dare risposte diverse su chi può essere da chi può essere considerato il Rasha ve ne porto solo una una risposta che da Ravelon che dice che il Rasha in realtà esprime un'ideologia qual è l'ideologia non nota una cosa nota che il Rasha noi lo troviamo nella Torah lo troviamo legato al momento in cui si arriva in Eretz Israel allora secondo questa interpretazione il Rasha direbbe io non contesto il valore delle mitzvot finché si è ingola non contesto il valore delle mitzvot finché si è fuori dalla terra di terra capisco che possono essere un momento di unione un momento per distinguersi dagli altri eccetera eccetera capisco che possa rappresentare questo ma adesso siamo in Israele a cosa servono che cos'è questa fatica con cui ci affettiamo bene questa potrebbe essere la domanda la risposta alla prossima puntata adesso devo proprio andare grazie grazie so che devi fare la vita al Tempio ti salutiamo tutti ci vediamo martedì prossimo io propongo di continuare anche dopo Pesach sono troppo belle queste lezioni grazie 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 tantissimo grazie grazie buona sera grazie grazie ciao 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 ciao